E' crisi profonda nella maggioranza del Consiglio Comunale di Pineto. Il tutto è cominciato a seguito della decisione del gruppo di Italia Viva di desertare il Consiglio Comunale del 28 giugno scorso. Per questo il sindaco Robert Verrocchio ha deciso poi di togliere le deleghe all'assessore Claudio Mongia e al consigliere Marco Giampietro. Ma questa è solo la solita goccia che fa traboccare il vaso, visto che i rapporti tra il primo cittadino e gli esponenti del partito renziano da alcuni mesi si stavano incrinando. A seguito di quanto accaduto Italia Viva ha espresso tutto il suo disappunto sulla situazione che si sta venendo a creare e tramite il coordinatore regionale Camillo D'Alessandro lancia un ultimo appello al sindaco per cercare di portare a termine nel migliore dei modi il programma elettorale. Non è nelle disponibilità del sindaco stabilire a che partito debbano aderire i consiglieri comunali e dovere invece il sindaco convocare le forze politiche che nascono in Consiglio Comunale. Ed Italia Viva rappresenta circa il 40% del Consiglio Comunale della maggioranza, ragione per la quale oggi noi siamo fuori ma abbiamo lanciato, proprio perché siamo responsabili, un ultimo appello, un patto di fine legislatura, ci sediamo, un patto programmatico, amministrativo, ci sediamo e stabiliamo ciò che possiamo continuare a fare insieme, ciò che ci divide e smussare. Insomma sicuramente noi non utilizziamo l'arma del ricatto. Quello che vogliamo è che ci sia un confronto, un riconoscimento politico di questa forza e se poi invece il sindaco vuole ed è legittimo cercare operazioni trasfughi in Consiglio Comunale diversi da quelli che lo hanno eletto in sindaco di questa città lo può legittimamente fare. Ma voglio fare un appello al Partito Democratico, sono qui per recucire, nella dignità e nel rispetto reciproco. E' singolare che ovunque in Abruzzo dove si voterà, e si voterà a ottobre in diversi comuni, sopra 15 mila abitanti, praticamente salvo qualche rara eccezione ovunque noi presentiamo liste a sostegno dei candidati del PD e del centro sinistra. Lì ci chiamano e ci vogliono, quando servono i voti. Quando invece governiamo insieme succede quello che è successo a Pineto e siccome Pineto non è un comune qualunque, è un comune tra i più importanti di Abruzzo è un fatto politico che riguarda anche il PD regionale. Quindi sediamoci tutti a un tavolo, pronti a risolvere i problemi ma se questa disponibilità non ci dovesse essere, sia chiaro per i cittadini di Pineto, nasce una forza politica, presenta un programma, chiede un incontro da mesi, il sindaco neanche li riceve, credo che sia un problema del sindaco, non Italia Viva.